Operazione antidroga a Eboli, arrestato uno spacciatore. Nell'abitazione di un pusher ebolitano, come scrive il mattino, sono stati sequestrati 300 grammi di acish, in parte già suddivisi in dosi, per essere venduti. Il blitz è stato effettuato dai carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, che hanno perquisito il malvivente e poi hanno controllato palmo per palmo l'abitazione e i locali attigui. In una stanza della casa dove da tempo vive il malvivente sono stati rinvenuti gli stupefacenti. L'acish è stato sequestrato mentre il pusher, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione finalizzata alla vendita di stupefacenti. Le indagini non sono ancora concluse, i carabinieri sono al lavoro per scoprire la provenienza dell'incente quantitativo di droga. L'acish doveva essere smerciato durante il weekend, ma i carabinieri sono riusciti ad evitare che gli stupefacenti venissero venduti a minorenni e altri clienti. Gli investigatori negli ultimi giorni pedinavano il pusher, appena è giunta la droga e scattato il blitz. La lotta allo spaccio degli stupefacenti è una delle priorità dei carabinieri della compagnia di Eboli, che hanno già arrestato molti pusher e hanno sequestrato incendi quantitativi di stupefacenti.